L'Occidente ha teorizzato forme di comunità e di comunitarismo, se vogliamo usare questa categoria. Anzi, possiamo dire che oggi addirittura c'è una contrapposizione nell'ambito della filosofia politica tra due categorie di pensatori che si distinguono non più secondo l'obsoleta dicotomia di destra e sinistra, ma secondo la nuova dicotomia di liberals e comunitari. Vi sono gli autori liberals che pensano che l'individuo sia il centro e in qualche modo il riferimento principale e che la società sia in qualche modo un derivato provvisorio delle relazioni che hanno l'individuo per centro e allora abbiamo gli autori della scuola neoliberale molto diversi fra loro, anche quelli apparentemente più critici verso l'ordine neoliberale. Penso a John Rawls, una teoria della giustizia. John Rawls immagina forme di moderazione del neoliberismo ma parte sempre dal presupposto dell'individuo, quindi antropologicamente parte dall'individualismo. E poi ci sono i comunitari come Taylor, McIntyre, che richiamandosi McIntyre ad Aristotele, Taylor a Hegel, pensano invece come elemento primario la comunità. Quindi l'Occidente direi che è diviso su questo tema, almeno nell'ambito filosofico politico. Sicuramente il pensiero greco era un pensiero comunitario più che individualistico, anzi propriamente i greci non avevano neanche un termine per definire l'individuo, che è un concetto tutto moderno. Individuum è il calco latino del greco atomon, ma mai i greci si sarebbero sognati di usare l'espressione atomon riferita alla persona umana. Neanche conoscevano il concetto di persona in verità, che è un prodotto del cristianesimo. Conoscevano il concetto di psuche, di anima. Socrate dialogava con la psuche, con l'anima. E l'anima era sempre un'anima individuale e comunitaria allo stesso modo. Per i greci l'uomo era uno zon politikon, un animale comunitario, quindi non un individuo astratto, un Robinson Crusoe, come invece lo penseranno i moderni. E sono infatti moderni a, come dirai, enfatizzare l'individuo pensato come atomo calcolabile alla maniera galileiane, non come anima interrogabile dialogicamente in maniera socratica, come atomo fondamentale e costitutivo della società. La società stessa, i contrattualisti moderni, la pensano come un pactum con cui gli individui già formati convengono di entrare in società. Ricorderete senz'altro il frontespizio del Leviatano di Tommaso Hobbes che mostra un grande uomo con le mani rivolte da terra verso il mare, composto da tanti piccoli uomini. La società, lo Stato è la risultante di tanti individui che vengono prima cronologicamente e logicamente rispetto allo Stato. Ecco, Hegel, ad esempio, che si richiamerà l'etica classica greca comunitaria, criticherà questa concezione pattizia e individualistica dello Stato. Lo Stato non è l'unione di singoli individui e non scaturisce da un patto che invece vale per il diritto privato ma non per la sfera pubblica. Quindi questo è in estrema sintesi il fatto dell'individualismo. La società degli individui, come la chiamava Norbert Elias, nasce sostanzialmente con la modernità. Hegel diceva che i greci propriamente non conobbero il concetto di individuo. La critica che fa Hegel alla Repubblica di Platone, la Politeia, non è tanto di essere un progetto utopico. Secondo Hegel non era neppure un progetto utopico ma era una più o meno precisa analisi della fattualità e dei rapporti reali. Il vero limite di Platone e della Grecia, secondo Hegel, è di non aver conosciuto l'individuo e quindi Platone pensa alla comunità in maniera scevra dalle individualità. È invece grazie al cristianesimo che l'Occidente scopre la figura della persona, immagine di Dio, e poi la modernità è il tentativo difficile di armonizzare l'individuo e la comunità. E allora abbiamo soluzioni più individualistiche, quelle liberali, più comunitarie come quella evocata di Hegel. E proprio in ciò sta l'idea di Hegel, è quella di criticare la Repubblica di Platone che è un modello organicistico, ma di criticare anche l'individualismo liberale che produce la scissione. Bisogna trovare una comunità di individui egualmente liberi. Questo è un po' quello che Hegel pensa di vedere nella funzione dello Stato, che in Hegel non è lo Stato totalitario, come viene fumettisticamente detto sui manuali universitari. Lo Stato di Hegel è lo Stato che realizza la compiuta libertà degli individui come cittadini e come parti di una comunità. Ecco, il limite dell'Oriente, se ascoltiamo Hegel, è proprio quello di non aver mai teorizzato appieno l'individuo. Qual è la differenza tra i greci e gli asiatici, ad esempio, nella lettura che dava Montesquieu. Montesquieu diceva, è vero, i greci non hanno scoperto la persona umana, ma rispetto agli asiatici non era neppure una massa uniforme quella dei greci. Il mondo asiatico è il mondo del dispotismo orientale, si dirà nella modernità. Anche in Machiavelli c'è questo tema. Lo Stato orientale è difficilissimo da prendere perché il potere è nelle mani di uno, però mentre in Francia, diceva Machiavelli, ci sono infiniti frazionamenti del potere tra baroni e piccole autorità, nel mondo orientale c'è uno solo che comanda e quindi in realtà nessuno è libero perché si può essere liberi solo ove tutti lo siano. Quindi direi che uno dei tratti di differenza fra l'Oriente e l'Occidente sta nel fatto che l'Occidente ha scoperto l'individuo e ha prodotto anche la patologia dell'individualismo. L'individualismo è una patologia di un corpo sano che è la persona. L'Oriente per parte sua non ha messo a tema l'individuo e ha prodotto forme di comunitarismo radicale anche certamente, ma non con al centro l'individuo. Ecco perché ad esempio quando ci sono le politiche securitarie nei casi di una pandemia come è stato nel 2020, l'Occidente riesce meno a governarle perché il principio della libertà individuale entra in conflitto con questi dispositivi di controllo che invece in Oriente meno problematici risultano per il diverso concetto di individuo.